E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jack e quest'oggi siamo sul terzo episodio di Jolly 3. Dunque, nello scorso episodio abbiamo sentito un discorso interessante di un animatronic alla fine dell'episodio, mentre cercavamo la cassaforte, la ricerca della cassaforte del film. Questo animatronic diceva che era tempo di cambiare la storia e di fare in modo che il passato non si ripeta. Ed è strano, ma anche interessante, perché effettivamente non sappiamo di che cosa si tratta. Dobbiamo scoprire che cosa è accaduto. Dunque, direi di continuare con il gioco. Vai, vai. Grandissimo, forteschissimo. Aiuto, già si sono iniziati a muovere. Mamma mia ragazzi, sono le 12, l'una del mattino e sono attivissimi, sono in tre attivi. Porca miseria, l'uccello senza becco. Ah, cacchio! Via, 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 uccellaccio! Dai, gara di sguardi. Ah! Ah, cacchio! Ah, Chica, ok! È vero, mi ricordo, abbiamo letto, lo scorso episodio, abbiamo letto sul libro che Chica la dobbiamo continuare a guardare. Io però ho abbassato il monitor e non mi ha attaccato, quindi questo è un buon segno. Possiamo anche semplicemente abbassare il monitor e la telecamera, e la ventola della telecamera, ciao Chica, che bella che sei. E la ventola della telecamera numero 9 si sta per rompere. Cavolo, no, 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 veloce, 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 sì, veloce! È qui, è qui, è qui, è qui! Vai! Un minuto di tregua ce lo posso avere anch'io, madonna mia, quanto sono attivi. Ma come hai fatto ad entrare? Hai detto, uccellaccio, questo vola. Cacchio! Mamma mia, oddio, vai. Vai, vai! Muorici! Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia! Ok, da che parte devo andare? Ci stracentro? Ah, porca miseria! Ma chi era quella, Puppet? Co... Che cacchio? No. Ah, era Puppet che parlava nello scorso episodio! Cacchio! Che vogliono fare, che devo fare, che devo fare, che devo fare? Devo premere questi tasti velocemente, vero? Mi vogliono tranciare, mi vogliono trasformare in un prosciutto. Mi fanno male le dita. Oh, madonna mia! Questa è un'esperienza che non dimenticherò facilmente. E mi dispiace. Però almeno abbiamo finito la notte, dai. Vai, vai. Sì, grandissimo! E cominciamo subito. Male! Dunque, ragazzi. Il video finisce qui. Spero che vi... No, vi stavo prendendo in giro! Ce l'avevate creduto! No! Il video è durato pochissimo. Facciamolo continuare. Facciamoci pure questa quarta notte! Vai! Que... Quello era Freddy! Che ci fa Freddy? Quanto sei bella, cica! Oh, meno male! Oh, oh, oh! Cacchio! Cacchio! Che cacchio è quello? Quello è Jolly! Jolly! Sei tu! No, ho sbagliato! No, 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 è niente, è niente, sono morto, sono morto. Mannaggia, la misera, avevo quasi finito la notte! No, ma ho finito il gas Ma perché? No, dai Senti Faccio più bella figura così Ma lo stavo riparando Allora Allora Io stavo riparando La ventola Tu come mi fai ad attaccare Se io stavo riparando la ventola? No, ho sbagliato Ho sbagliato Sono un imbecile 55, 56 57, 58 59 6 del mattino Sì però il tizio durante la prima puntata mi dice Ah, ok Questa ambientazione e questa musica di sottofondo Mi ricordano troppo il minigioco di fine notte con l'uccello senza becco La cassaforte è questa, no? Questa O questa? Questa Dove sta? Questa? Sì, ecco quella Vogliono uccidere Chi ha parlato? No, gli devo inviare dei codici Gli devo inviare dei codici e copiarli Dal telefono Mentre qualcuno mi cerca di uccidere Io non vedo nessuno C'è qualcuno? Chi? Chi ha parlato? Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ma fatti i cavoli tuoi Chi sei? Oh cacchio, l'ho visto Ehm, coso? Ehm, lo stregatto In realtà lui è un ninja Lo guardo E scompare Ehm, lo stregatto Anche Ehm, lo stregatto Indover Ehm, lo stregatto Ehm, lo stregatto Ehm, lo stregatto Tutto ronfiato? Tutto ronfiato? Vai! Vai! Oh sì! 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 Mai più! Mai più! Mai più! Dimmi questo codice e basta! Vai! Delle cassette! Delle cassette! Ho fatto tutto questo per delle cassette! Tre cassette! La goduria! Voi non potete capire la goduria quando sento questa musichetta! Tre, due, uno! Grandissimo! Ragazzi, la notte 5 è col cavolo che ve la faccio! Quindi, signore e signore, il video finisce qui! Spero che vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio con l'ultima notte di Jolly 3! Ciao a tutti! Ciao a tutti!